Allora Mirina buonasera intanto e grazie di essere qui appunto a questo appuntamento che già si ripete da qualche anno, l'Arcobaleno Napoletano. Ecco, per voi che cos'è? Beh, è un premio che ogni anno diventa sempre più importante, ci rappresenta un po' un traguardo per noi napoletani, per noi campani, perché essere citato tra le eccellenze di quell'anno, diciamo ognuno appunto nel proprio campo, è qualcosa che è molto bello. Per di più, associata alla Fondazione Contro il Melanoma, diventa qualcosa di ancora più bello perché significa prestare il volto non solo per un'occasione bella come quella di un premio ma anche per una giustissima causa, per una causa molto importante che purtroppo è ancora molto sottovalutata. Infatti, quindi questi eventi servono anche, non solo avvicinando appunto gli artisti che si sentono sensibilizzati da questo problema così importante e insomma si cerca in un certo qual modo di dare una mano. Ecco, lei cosa ne pensa appunto che gli artisti si avvicinano anche a questi eventi? Cioè che danno appunto una mano e sostengono queste iniziative? Qualcosa di fondamentale, fa parte diciamo proprio del secondo me proprio dell'essere un artista riconosciuto e conosciuto perché ti permette di arrivare a più gente e quindi di essere più comunicativo rispetto magari a un giornalista o a un appunto un articolo su un qualsiasi quotidiano settimanale ci metti la faccia quindi diciamo fai capire che comunque in quel caso diciamo hai sposato la causa e questo è una cosa importante ed è importante per le fondazioni che usano tra virgolette in maniera positiva gli artisti per farsi conoscere e perché comunque diciamo visto che in questi casi la prevenzione è tutto l'informazione è tutto è importante prestare il nostro volto Allora, visto che siamo nel periodo natalizio, siamo nel mese appunto di dicembre cosa possiamo augurarci? Beh, ci auguriamo che diciamo sotto l'albero troviamo un tasso più basso molto più basso di diciamo di problematiche mediche ecco e quindi è una maggiore informazione e un po' più di serenità e di tranquillità diciamo lasciare un po' lo stress fuori la porta di casa almeno i giorni di Natale perché secondo me, ma credo che insomma non è solo il mio parere lo stress spesso è un alleato di questo tipo di malattie quindi dovremmo appunto rallentare un po' i nostri ritmi e speriamo che magari solo i giorni di Natale proviamo riusciamo a spegnere il cellulare e ad essere un po' più rilassati Io comunque la ringrazio della sua presenza e di essere qui stasera grazie, grazie, auguri